Quindi c'è l'anticipo di Harjeldberg, tocca con il braccio destro sul lead, quindi c'è questo traversone a colpo sicuro, David Platt per l'1-0, gol strameritato per la Sampdoria dopo 13 minuti di gioco. Platt era andato a segno anche ad Oslo, si rifà il tocco per Lombardo, il cross preciso per lo stacco di David Platt, 1-0 per la Sampdoria al tredicesimo minuto. E viene verso uno dei fratelli Berg, il rimpallo favorisce Lombardo, la posizione ideale per il raddoppio che avviene al trentaseiesimo minuto. 2-0 della Sampdoria con Attilio Lombardo, risultato costruito con saggezza e dopo aver perduto però due pedine del calibro di Bertarelli e Platt.